Ehi, ma niente, è insensibile lei, eh? Ma perché stai facendo effetto, niente? Guarda, cacciolo, è inutile, è inutile, è inutile, il tempo perso? No, ma secondo me non stanno facendo, la cosa non è così? No, no, guarda che faccia però, eh? Sì, perché, non fa più. Guarda, stai davanti. È? Ah, è, basta! è finito Oh, vinciriddo, l'è? Guarda che spettacolo, però, eh. Qua gliela pure una foto dopo. Guarda, quando ti capita più un video?